Ciao, buongiorno, oggi ci troviamo qui dove? Via Mergelina, Napoli, obiettivo pesca. Bel posto vicino al porto e vedo anche che tu hai un bellissimo negozio ben fornito e ho visto che tieni anche tutti i nostri prodotti sicuramente come li ritieni? Sono validissimi, riscontri ottimi e hanno un potere attrattivo tutte le vostre pasture spettacolare. Ti ho portato stamattina l'ultimo prodotto che è nato da Antiche Pasture che è Pesto Power Gel, ti ho spiegato un attimino di cosa si tratta, cosa ne pensi e se l'idea ti sembra giusta? Penso che sia un'idea giustissima perché sono molto molto aromatizzati, moltissimo, visto che la sardina specialmente ha un odore che realmente simula la sardina, fortissimo e poi questi glitter penso che possano attirare molto 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 di più i nostri, le nostre sib, i nostri cefalotti. Questo glitter è un gel molto particolare, infatti sta molto stabile in azione di pesca, rimane sulla Totanara per circa 15-20 minuti, questo invece è il modello fosforescente, basta illuminarlo con una semplice fila e lui si illumina. Quindi sono prodotti molto tecnici e performanti perché lasciano una scia di gusto praticamente per 15-20 minuti, non va via neanche nei lanci più difficili questo prodotto, è un prodotto innovativo, un prodotto che è nato adesso, è un prodotto che sarà nel Casado 2019 e in anteprima lo diamo a Ciro in modo che possa farlo testare a tutti i suoi pescatori. Sicuramente, sicuramente ce ne saranno delle belle. Allora Ciro vedo che hai tutta la nostra pastura Altamarea che è il nostro prodotto di punta, qui abbiamo Gamberetto e Muriddu, Cozza Bibi, la speciale mazzetta, la nuova pastura Cuore del Golfo per le orate, è micidiale questa pastura, poi abbiamo la Super Bianca Cefalo, questa è una pastura molto bianca come si vede, e poi abbiamo la Vesuviana che è una pastura prettamente da gara che richiama un sacco di pesci sul luogo di pesca. Poi ho visto hai anche il Zia Bread, questo è il nostro prodotto diciamo molto performante da mettere sul lamo. Allora Ciro io ti ringrazio della tua ospitalità. A voi, per la visita. Bene, ho visto che insomma tieni parecchi i nostri prodotti, comunque per qualunque cosa guardi il nostro catalogo, sai benissimo che facciamo tantissimi articoli e lì puoi trovare tutto quello che ti serve per i tuoi amici pescatori. Sicuramente. Bene. È un modo per crescere insieme questo. Ricordati l'indirizzo. Via Mergelina 29 Napoli, Obiettivo Pesca. Bene, Ciro, alla prossima. Alla prossima.